buongiorno ragazzi Carlo Martini semestrani il teschio messicano del dia della morte qui abbiamo un po di peperoncini che oggi nonostante sia un fresco marzo Carolina Reaper Caramel è giunto il momento di travasarli qui uguale Carolina Reaper Yellow guardate belline e questo è Carolina Reaper Red qui abbiamo il sacro Buddha e qui colui che ci osserva dall'alto sopra una zucca lepotiron e qui abbiamo il nostro terriccio e i famosi vasetti 7x7 mi ricordo 7x7x10 si 7x7x10 vedete c'è scritto qua guardare sempre i vasetti sotto ok cos'è questo video di oggi oggi vi faccio vedere i prodotti della Bio Beats che come sempre sono il top il segreto dell'etichetta che spesso la gente non lo sa è alzarlo da qua qui uguale per il Root Juice quindi vi faccio vedere il Bio Grow che già insomma conosciamo è Root Juice che è un come si dice in italiano Juice che è un un radicante tutto ovviamente super bio questo per la coltura come sempre dei peperoncini ora i dosaggi quello che succede diciamo quello che suggerisco io in base alla mia esperienza e poi quello che suggerisce chi te li vende e di solito chi te li vende ti suggerisce sempre un dosaggio più alto ottenendo magari il solito risultato allora per le piante peperoncine diciamo queste sono già nate da un po' però appena nate diciamo quando oltre a cotideroni mettono le foglioline consiglio 1-2 mm massimo di Bio Grow e poi una volta 1-2 ml di Root Juice per litro d'acqua che succede chi te lo vende cioè vabbè chi te lo vende la diciamo nella scheda c'è scritto che lo puoi dare a ogni annaffiatura per me è una forzatura cioè è inutile chiaro che più ne consumi più ne compri quindi io direi che a meno come faccio io con il radicante lo do dopo un paio di settimane che sono nate e poi lo do ogni volta che faccio un trapianto quindi un trapianto da questo al vasetto questo poi quando passa all'intermedio e poi basta praticamente quindi faccio diciamo tre o quattro annaffiature con radicante e poi vanno nel base definitivo nell'orto nel campo via e quindi questi sono i dosaggi che suggerisco io come si fa a creare il governo la poltiglia di Bio Grow e Root Juice che ovviamente possono essere dati insieme ecco qua che io vi faccio il super video appoggio il mio treppiedi da due lire qua e innanzitutto di cosa abbiamo bisogno io faccio qui un litro con la mia siringona ciao con la mia siringona sì 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 a casa scusa sto facendo una cosa sono impegnato a fare una cosa poi ti ragiono dopo e sto facendo un filmato un filmato sono un presa diretta e allora dicevo e come vedete questo è una siringa che segna i millilitri quindi qui arriva a 10 millilitri importante prendere quella che segna un singolo millilitro perché altrimenti impazzite quindi adesso procediamo mettiamo qua qui ho l'acqua piovana sono stato interrotto dalla signora qui accanto che ovviamente torna fuori con la primavera col sole e quindi ho detto sto facendo filmato ma ovviamente non può capire a cosa mi riferisco quindi faccio un litro d'acqua più o meno litro d'acqua piovana che ho nel tubone ecco poi poi sul litro d'acqua io metto queste piantine sono già abbastanza grandi metto 2 barra 3 millilitri ecco 2 barra 3 millilitri di bio bro e poi metto il root juice monta attenzione al root juice perché sono cose potenti ecco 2 millilitri e quindi bisogna stare attenti nonostante siano bio al 100 per cento a non fare un sovradosaggio anche se poi con l'esperienza magari andrete a occhio eccovi la sbobba che sembra un bel piccione un bel acqua merdone pronto per essere usato quindi io già che ci sono per diciamo aggiungere sempre notizia al filmato vi faccio vedere come faccio i travasi i semplici travasi innanzitutto di che terriccio si tratta questo è un terriccio da semina della brill ma ovviamente il top sempre il light mix della bio beats comunque insomma un terriccio da semina con aggiunto un 5 barra 10 per cento di perlite che come vedete sono questi sassolini bianchi per il drenaggio perché trattengono l'umidità e più un altro 5 10 per cento di pietra pomice che sono questi sassetti più la leonardite che non è altra che una merdona in polvere che anche quella aiuta a sviluppare le radici perché ricordiamoci che con un bell'apparato radicale la pianta sarà sicuramente sviluppata bene lascerò tutti i link in descrizione per eventuali acquisti se vorrete avere le solite cose che uso io e presumibilmente il solito risultato quindi procedo le mie etichette già scritte con la famosa paletta al tetano allora io faccio questi quattro quindi segniamo sempre mi raccomando l'etichetta nonostante ci sia un super fresco io sto mani di corte perché 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 dopo mezz'ora che sta il sole è comunque un caldo buio ovviamente ogni anno riutilizzo i soliti basetti perché basta alla plastica questo era il pomodoro si come vedete basta alla plastica uso e getta questo è quanto quindi mettete l'etichetta sul vasetto più lo scotch perché ovviamente l'etichetta si bagnerà devo avvicinare l'ambara da Anna quindi si riempie semplicemente uno di questi vasetti senza pressare troppo e col super spatolina al tetano andiamo a levare il primo ora come si leva il primo cioè come si leva in generale si va nel tentativo di diciamo danneggiare il meno possibile le radici con la spatolina intorno diciamo in modo che si stacchi agilmente ecco qua vedete le radici sotto che vengono fuori questa pianta poteva stare qui tranquillamente altre due settimane però la mettiamo subito qua così non ci si pensa più la appoggiamo delicatamente è una cosa molto importante che il panetto venga levato dal vasetto dal velo precedente integro in modo che lei non si accorga neanche questa pianta a parte le radici che ovviamente troveranno più spazio e si abbargeranno pressiamo ma non troppo ecco qua io a questo punto anche qui sempre molte discussioni levo i quotidiani oggi non mi riesce di dirlo perché? perché mi sembrano superflui perché la loro funzione l'hanno fatta eccola stavo per citare il caro Fabrizio Benigni perché mi sa per decapitare la piantina in diretta vabbè quindi riempiamo il vasetto che è anche un po' grande per questa ma adesso lei sarà a posto per un bel po' mettiamo io metto almeno quattro sassetti poi ognuno ha le sue metriche psicotiche ecco quattro sassetti e poi finalmente annaffiamo con la super sbobba di Biogro e Rook Juice perché io do il diciamo il radicante quando travaso per un motivo ovvio perché così aiuto subito a sviluppare le radici nella nuova sede e lo mettiamo qui che il Buddha lo sorveglia quindi direi che per la dimostrazione è tutto ecco qua dal Carina Ripper di Semistrani di Carlo Martini dal Biogro e da Rook Juice è tutto arrivederci